Ho tanti ricordi di padre Rufino Megliola dalla Cedonia, questo confratello che, dico la verità, è stato un confratello molto caro e la cui assenza, da quando è morto da tanti anni, si avverte sempre, è un vuoto davvero che ha lasciato la nostra provincia, nelle nostre comunità. Il mio primo incontro con padre Rufino è stato durante il noviziato, quando noi abbiamo fatto la professione religiosa nel 1981, lui è venuto da Campobasso con gli studenti, lui era direttore degli studenti di teologia a Campobasso e venne con loro e partecipò alla nostra professione religiosa. Dopo da lì noi siamo andati proprio a Campobasso come studenti e lui è stato il nostro direttore. Devo dire la verità, padre Rufino aveva quell'aspetto un po' ruvido, diciamo così, nel tratto con gli altri, sembrava sempre un po' sulle sue, un po' arrabbiato, sembrava un po'… però in effetti era solo una scorza, diciamo così, perché il cuore era buono e noi avvertivamo che lui ci voleva bene, noi eravamo contenti di avere lui come nostro direttore. Ricordo un episodio un po' curioso, quando durante quei due anni in cui siamo stati a Campobasso, lui ci portò a fare un ritiro spirituale al Sacro Convento di Assisi, dove trascorremmo una settimana e l'ultimo giorno, il sabato, proprio perché era l'ultima giornata, avevamo una mattinata libera e io e un altro confratello chiedemmo a lui di poter andare a Perugia per incontrare alcune persone. Il confratello voleva incontrare una suora Clarissa, io il proprietario dell'appartamento dove io ero stato come studente qualche anno prima. Ci fu un imprevisto, abbiamo perso un po' di tempo, quando siamo ritornati abbiamo trovato che padre Rufino se n'era andato con gli studenti, ci aveva lasciato ad Assisi a piedi, dando ordine al guardiano del Sacro Convento di tenerci ancora per una notte, ci lasciò dei soldi perché poi l'indomani potessimo raggiungere il Campobasso col treno. Questo fu un momento molto brutto, io ricordo che ero molto adirato con padre Rufino perché dicevo ma poteva pure averci aspettato qualche minuto, poteva esserci successo qualcosa, magari lui ci lasciò così, in effetti forse è stato un momento un po' di impazienza da parte sua, ricordo che quando poi l'indomani arrivamo a Campobasso lui era un po', diciamo, si era reso conto che forse aveva sbagliato e quindi ha avuto un atteggiamento verso di noi un po', diciamo, quasi di scusa per quello che aveva fatto, questo è un ricordo un po' negativo se vogliamo, però ecco, padre Rufino ci voleva veramente bene. Ricordo poi in particolare quando poi diventò provinciale e fu il provinciale che nel periodo in cui io sono stato ordinato sacerdote e lui ha partecipato alla mia ordinazione in San Pietro il 21 giugno 1987 ed era presente, partecipò alla celebrazione dell'ordinazione da parte di Papa Giovanni Paolo II e poi ricordo nel mese di novembre, sempre del 1987, lui volle venire con me in Uruguay per la mia prima messa che io celebrai il 21 novembre del 1987 nella mia parrocchia della mia città e mi ricordo che questo viaggio è stato molto bello perché lui, come se fosse tolta quella maschera di durezza, di solennità che aveva un po' lui e diventò come un compagno, era quasi come un compagno di studi e quindi diventò molto alla mano in quel periodo, è stato anche a casa mia, si affezionò molto a mia madre, a mia zia, a mio fratello, di fatti poi in seguito mi chiedeva sempre di loro, chiedeva sempre notizie come stavano, come non stavano e durante quel soggiorno molto breve abbiamo fatto diversi viaggi a diversi luoghi, andavamo insieme tutti e due in macchina, dicevamo il rosario, chiacchieravamo, diventò un'altra persona in effetti, poi quando io ritornai in Italia lui tornò al suo solito atteggiamento un po' sulle sue, che sembrava un po' distaccato ma era solo un'apparenza perché in effetti aveva un cuore molto grande, insomma di Padre Rufino conservo tanti bei ricordi, ripeto per me è uno di quei frati la cui assenza si avverte sempre, ecco perché è stato davvero un esempio, una colonna per noi, nella nostra formazione, nel nostro cammino anche come ministro provinciale e quindi la sua morte potremmo dire quasi prematura perché era ancora giovane e imprevista, è stato veramente un colpo molto grande per la provincia certamente ma anche per noi che lo abbiamo conosciuto, che siamo stati un po' cresciuti da lui e quindi ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, noi avvertiamo questo vuoto, questa mancanza della presenza di Padre Rufino.